Sono questi i tempi decisivi per le prossime regionali del 2024, soprattutto per il fronte che rappresenta l'alternativa al presidente Marsiglio. Ieri sera la direzione regionale del PD ha chiuso sul nome di Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo. Quest'oggi si riunisce il tavolo di Abruzzo insieme e io credo davvero che siamo in condizione di fare un passo in avanti decisivo verso la nascita di questo patto per l'Abruzzo che dovrà vederci uniti contro la destra romana guidata da Marco Marsiglio alle prossime elezioni regionali. La direzione regionale del PD di ieri ha espresso profonda gratitudine per il grande lavoro fatto da Silvio Paolucci in queste settimane che è stato davvero un lavoro di costruzione di questo patto per l'Abruzzo e ha deciso di convergere sulla candidatura di Luciano D'Amico, un abruzzese che conosce e ama questa regione, una personalità forte, autorevole che credo davvero possa rappresentare un'ottima guida per questa alleanza. Fiducioso dunque il segretario del PD e forte anche del fatto che è stato recuperato terreno in pochi giorni sulla scelta del candidato. Tocca vedere se il partito di Calenda parteciperà al Vertice dopo l'annuncio della pausa di riflessione da parte del deputato Giulio Cesare Sottanelli, leader regionale di azione. Insomma, ha pesato la mancata scelta di Carlo Costantini come candidato unitario. Cosa accadrà? È difficile dirlo. Per ora c'è la fiducia di una coalizione che crede nel progetto Abruzzo insieme. Naturalmente le decisioni saranno prese dalle forze civiche e politiche che saranno sedute a quel tavolo. Io credo davvero che ci siano tutte le condizioni questa sera per unire Abruzzo insieme, per costruire questo patto per l'Abruzzo e per ridare finalmente una speranza al futuro di questa regione.